ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video è da tanto che non facciamo una sponsorizzazione perché infatti io le sponsorizzazioni da come sapete non le faccio più si è girato ok non le faccio più le sponsorizzazioni perché c'è non è giusto farle dato che sono a tanti iscritti però ragazzi oggi voglio fare una sponsorizzazione perché ragazzi perché grazie a questo mio iscritto forse si possono ottenere account gratis rari di fortnite quindi appena lui ci riuscirà che forse abbiamo già trovato un metodo che funziona appena ci sarò riuscito anch'io ragazzi porterò un video sul canale di come fare quindi andate tutti iscrivervi al suo canale ragazzi perché appena appena ci sarà riuscito anche io fare quel metodo per avere account gratis farò un video sul canale quindi ragazzi andatevi iscriversi al suo canale che grazie a lui forse potremmo avere account rari di fortnite gratis con cavaliere nero renegade tante skin e ciao ragazzi iscrivetevi link in descrizione